Mi manco sempre molto 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 più per... Ma perché oggi tutti rompono i coglioni? Perché quello c'ha da fare, Argi, c'ha da fare quello Quello fanno e di quello si occupano Quello sanno fare, quindi voglio dire Non è che ci sono molte altre cose Di cui voglio dire, per cui, cioè So è che ti dico Tanto voglio dire, tanto alla fine Comunque Eh vabbè, vabbè Ragazzi, poi, ripeto Ci possono essere i pro e i contro della questione Però, secondo me ci stiamo un attimo Soffermando sulle stronzate Nel senso, cioè Ci stiamo un attimo soffermando su delle stronzate Con tutti i problemi che ci sono al mondo Per quello che riguarda l'uguaglianza e la parità Ci fermiamo a parlare delle tette di Nami Veramente Veramente Io non riesco a capire Cioè, io non riesco a capire In Italia abbiamo delle leggi Che non tutelano le minoranze E qui stiamo a parlare delle tette di Nami Va bene, oh ragazzi Se la gente vuole parlare di questo Parlate di questo Però Secondo me non è esattamente La cosa prioritaria Il giorno d'oggi E poi Poi, oh Ognuno Ognuno ce l'è su Non è che Non è che voglio dire Che perché In realtà Yamato Non è che si sente uomo Sono dei meloni Occhio che dirlo così Il giorno d'oggi Meloni Ma dato che quest'ultimo è uomo Ha dovuto diventare uomo Sì ma poi Yamato Non è transgender Sì ma tanto è uguale Cosa cambia A me non cambierebbe niente Quindi Grazie per il cittadino Che minoranze Ma omosessuali Transessuali Quelle persone che vengono menate Ancora oggi per strada Per essere così Persone che Cioè è già stata la storia Di quel ragazzo Che era italo-marocchino Che la famiglia L'ha riportato in Marocco Perché Essere omosessuali Per loro è un reato Al momento L'ammazzavano Cioè possiamo pensare A queste cose qui Possiamo pensare A questa Alla difesa Dei diritti altrui E non A cosa succede In un manga Dove ci sono delle donne No Cioè Magari La butto lì No perché Sai com'è Voglio dire Magari Magari Potrebbe essere un filino Più utile alla gente Però Oh Punti di vista Punti di vista Punti di vista I miei personali Poi 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 Volevo vedere Delle cose buffe Ho trovato Lei fa vedere Dei video Di gente stupida E io voglio vedermi La gente stupida Perché mi rende Molto molto allegro Vedere gente stupida Scusami però Figlia mia Cioè se non Scusami figlia mia Se non cambi mai Il filtro E tutto il resto Nell'asciugatrice Cioè è normale Che si impalla Cioè non è a moto Perpetuo Non è eterna L'asciugatrice Non funziona Senza nessun tipo Di intoppo Cioè voglio dire Se io utilizzo La lavatrice Per 500 mila anni Il calcare Me la fa saltare Per aria Già Vabbè però Questo è ancora passabile Questo è ancora passabile Questo è ancora passabile Niente di Troppo traumatico È una torxia di inglese 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 Io meno Io volevo vedere se il mio smoothie Si è abbastanza Ma che combini Ma che stai facendo Ma che fai Ma che fai Tu ridi perché Ti è finito il ketchup Nel cervello Ti si è sparato la salsa rosa Nel cervelletto Ecco perché ridi Ma che schifo Ma se è sotto effetto Di allucinò Ma questi sono i discorsi Che io facevo da drogato Cristian grazie per il tuo Paratino Questa è una banana Ma se in realtà Questa banana In realtà fosse una mela Come facciamo a saperlo Zia ma sei sotto effetto Di stupefacenti Ma che cazzo Ma che cazzo dici Ma Ma cos'è questa discussione Sembrano i discorsi Che facevo quando ero bambino Perché la forchetta Si chiama forchetta E non tavolino Perché la banana È banana E non pesca sciroppata Ma che cazzo stai facendo Zio ma che cazzo Ma che cazzo stai facendo Ma c'è la linguetta Che cazzo stai facendo Con la frisca Ma che cazzo fai Ma c'è la linguetta Ma aprila Ma cosa stai facendo Ma cosa stai facendo Ma cosa cazzo fai Ma cosa cazzo fai Ma cosa cazzo fai No no zia però dai no, cioè io, 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 cioè c'è un limite alla stupidità umana, cioè questa, questa qui, avete presente il coso che frulla, il frullino, quello con, è tondo e fa frulla così, cioè lei ha messo il frullino con tutto il porta frullino dentro, cioè lei ha messo tutto il porta frullino in metallo nel caffè, ma sei normale, ma che cazzo fai, ma che cazzo fai, ma che upsi, ma, ma che upsi, ma, in che senso quale punto avere inestruzione, eh, fai bollire noodle, eh, Ma scusa, cosa vuol dire fai bollire noodle, perché non ha messo fai bollire noodle nell'acqua? Ehi, che cazzo li vuoi far bollire noodle, scusami, nell'aria? Ma scusa, e che cazzo fai bollire noodle nel mercurio cromo, ma è ovvio che fosse in acqua? Ma la gente, la gente non è normale, ragazzi, ragazzi, la gente non è normale, Cioè, questo si sta fottendo le viti o la ruota della macchina a fianco. Lest, grazie, vedici, palatino, cioè, questo si sta fottendo i bulloni o la ruota della macchina a fianco. Così, buonasera, palatino, così. Cioè, questo ha bisogno di un bulloni o della ruota, non ho capito, comunque il pneumatico ha visto la macchina e se lo stava fottendo. Ma che cazzo, ma la gente è normale. Eh, tu mi fotti il bullone, facciamo che io ti fotto la macchina, così. Ma che cazzo... Perché mi stai fermando, impedendo da andare via? Cioè, sì, ma scusa, ti fotti la roba dalla mia macchina e sono io quello cattivo? Cioè, ti fotti la roba dalla mia auto e sono io quello che ti lascio andar via. Eh, c'è, l'hai tolto la ruota. C'è poco da dire. Aveva ragione Einstein quando disse Due cose sono infinite. Guarda, sono d'accordo. Sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Oh, now he wants to borrow. You know, it's like that episode of Spongebob. You know, you can borrow whatever you want. Just as long as you give it back. Let me just borrow your tire. Yoink. Straight out of GTA and in real life. Sì, veramente. Zio, ma... Zio, ma... Ho una domanda da farti. Se tu metti una roba nel microonde, nel microonde, tra l'altro di plastica, peraltro, e cominci a vedere che del fumo sta uscendo. Non ti sembra il caso di spegnerlo il microonde? No, ma la bu... Lo chiedo, eh, perché magari... Cioè... Oh my God. In frattempo continuiamo a far andare tutto... E che cazzo è? Il brucaliffo. Che cazzo succede? Mario, grazie per il tuo palatino. È la nebbia che ti teletrasporta da un punto all'altro di Elden Ring. Ma cos'è che cazzo era quella? Sì, la mia si chiama camicia di forza, però non lo metto spesso, perché dicono che non mi sfina molto. Proteggilo con Nivea Deo Black & White Invisible. Con la sua formula innovativa a 5 in 1. Ti protegge per 48 ore e protegge i tuoi abiti dalle macchie. Bella, posso non lavarmi per una settimana con questo odorante bolliboh. E per uomo, prova l'efficacia 5 in 1 di Nivea Black & White Invisible. A minuti 30 minuti per riempire gli uova? No! 30 secondi e siamo buoni! Alguien si chiama mamma! Quella ha cotto le uova nel microonde fino a quando non è uscito il fumo di una centrale idronucleare. Il fumo è che si è fuori. Questo uomo ha comprato pizza l'ultima notte e si è riuscita il prossimo giorno. Oh, ho scusato di prendere la pizza. Ma, c'è, scusami, zio. C'è, scusami, hai ordinato la pizza, il pizzagliolo te l'ha lasciata fuori e tu ti sei dimenticato di prendere. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Questa la passo perché non possiamo sapere lo stato di quelle persone ieri. Cioè, lo stato di quelle persone la sera prima. Noi non sappiamo quanto alcol e droga avessero assunto, quindi... Non si è riuscita. Ho avuto a mostrarvi a qualcuno questo piatto di toilet paper holder. È, come, dal futuro. Inoltre di averlo spettare si è riuscita come questo. Eh, perché dovrebbe essere una sorpresa, scusami, che cos'è... Wow, I got one of those. Ma, scusami. Ma, secondo te, ma il rotolo si mette così, ma... Is this seat belt to hold your toilet paper for you? She gotta be trolling. You gotta be messing with me. Dici che sta trollando? Ah, può essere. Me right now. Did you see what she did? Cioè, tu non hai mai visto come è fatto un porta cartigenica. Mai! She put it up and then strangled it through the hole. I can't do that. The toilet paper didn't get set. So you legally can't put it through the... Dice che... Lei dice prende per il culo. Io non sono convinto perché la gente è idiota. Ma, zio, è nato al centro della terra quel ferro d'ospiro? Ancora un po' che lo lava al centro della terra quel ferro d'ospiro. Zio, ma che cazzo? Ma hai carbonizzato pure le fondamenta? E se toglie il mattone toglie la pavimentazione bruciata la terra Ha stirato le camicie di satana per quanto è andata a fondo. Dai, ti prego ti prego ma cazzo mi sta venendo male Cioè, ti prego ma non si può non sapere come si usa una merda di tostopane Cioè, ma Dio mio ma non è una maglietta da asciugare No, she did it. She put the bread on the toaster on the top What the hole's for? She like, oh... Ah, si usa così che nella Cina da me non gli abbiamo questi elevati meccanismi tecnologici No She was doing it wrong this whole time She put the toast on the toaster You'll heat it like a skillet Poor grandpa Stava asciugando come una maglietta al sole praticamente I wonder what the perfectly sized bread holes are for Beans There is a line painted on the road And these idiot think Perché le mucche stanno saltando la linea Perché They have to jump over it Why? Why do they think they gotta jump over it There is a human watching the Vabbè Vabbè Sono mucche Non è che vi sto a porre il problema eh, però They think they do it sound wrong Like I don't want to touch the humans Ora so come fermare intere mandrie di mucche e basta fare tante linee per terra I think that's very respectful of that My mom asked me if I want a slice of watermelon and give me this Mia mamma mi ha chiesto se volevo una fetta di melone mi ha dato questo Ma cos'è sta fetta di melone Ma che cos'è sta fetta di melone Ma scusami ma di 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 è buono buono per usarlo come disco anzi come disco da carling lo tiri è un frisbee è una fetta effettivamente ha chiesto se volevo una fetta non una fetta di normale signora che cazzo dice la signora ha detto spiegatemi un attimo ma com'è possibile che questo bambino si chiama Xam signora è specchiato il video il bambino si chiama Max non si chiama Xam signora ma che cazzo di signora ma lei si droga ma è ovvio che non ha specchiato il video ma secondo lei il bambino si chiama Xam dopo che il bambino ha spiegato che era specchiato e si chiama Max eh signora mi fa piacere che la prenda a ridere però lei meno l'ambrusco la sera perché cazzo però Xam è interessante ma 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 che cazzo sta facendo signora lei sta cercando di frullare il burro da raggi signora che cazzo sta facendo ok check this out signora che cazzo sta facendo ma signora ma si può frullare il burro da raggi che è denso come il miele la nutella perché la signora ha detto che c'era tutto l'olio tutto l'olio del burro d'arachidi era sopra quindi lei non è che prende il cucchiaio e mescola per amalgamare no lei mette direttamente il frullino nel burro d'arachidi che è denso come un muro in mattoni e frulla perché fare questo movimento è troppo faticoso effettivamente è troppo fastidio non consumiamo mai calorie non lo so patatino forse un giorno forse magari qualche anno però robic vabbè questa l'abbiamo già vista se tu sei cieco com'è che chiedi per avere dell'acqua dai no però non è possibile che nessuno riesca a darle una risposta dai vi prego scusami no zio però dai non è possibile che la gente sia tutta così rincoglionita scusa se sei cieco come chiederai dell'acqua parla sei cieco non muto ma zio cane ma scusa aveva la tipa gli ha detto sei cieco puoi parlare e lui fa io non so il linguaggio dei segni questo è ancora peggio questo è ancora peggio è l'aggravante della versione che abbiamo visto insieme non può essere così cretino no no può essere può essere io ho visto un video e sono sicuro che non fosse un video falso dove a una ragazza in America gli si chiedeva se un'auto va a 100 km orari a 100 km all'ora quanti km farà in un'ora e lei diceva non lo so non lo so non lo so 100 km orari non lo so e il test le faceva se un'auto fa 100 km all'ora in un'ora quanti km fa e lei non lo so non lo so non lo so è un'auto è parcheggiata a bordo della strada e non si sta muovendo ma che succede è partito il terzo di cristallo per cortesia si levi si levi scendo dalla mia macchina ma che succede ma l'auto era ferma ma siete rincoglioniti ma l'auto era ferma cioè io capisco che mi è l'istinto ad accelerare curvi e fai tipo strike però era ferma l'auto cioè sono loro che gli sono andati in groppa cioè quando sei tu che quando il tuo istinto di investire i ciclisti è talmente forte che i ciclisti si fanno investire da soli ma non vedete avanti mi hanno chiesto come vuoi le uova lui ha risposto tipo schiuse che le intendesse strapazzate all'occhio di bue che le intendesse quello che si era spalmato sul posteriore della macchina di mia madre mentre lei era ferma ah ma ogni tanto ti vengo addosso per divertimento grazie per i cir si 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 voglio un pollo vivo deve essere schiusa voglio proprio il pulcino me lo mangio no non ci credo non ci credo che lo fa non ci credo che lo fa ha detto questo tizio credeva che il punching bag quello lì davanti fosse il riscaldamento cioè ti prego non mi dire che da un cartone alla macchinetta convinto di dove che si debba dare un pugno sulla macchinetta e beh certo è ovvio non fa una piega certo quello è per riscaldamento appena sei pronto su la macchinetta sul metro ma questi vidi sono poesia ragazzi abbiamo trovato Rattorix al femminile americano questi video sono magia hai lasciato il piatto il coltello nel forno e beh c'è Gianobi grazie per i tre Kai grazie per i tre bentornati con il pie anche il coltello è diventato una torta se lo lasci in forno a parte che si mangiati la plastica guarda com'è buona a parte che quella torta oramai sarà diventata il tumore perché con tutti i fumi di plastica di cloro emanati questo tizio ha portato l'auto per farla controllare e farla sollevare ma il tizio non so perché non è sceso quindi l'elettrauto ha sollevato la macchina ma c'è ancora il tizio dentro e a quanto pare l'elettrauto non è più qui e lui è bloccato in alto a parte che si effettivamente scusa due cose uno come hanno fatto a non notarti che eri in auto due tu non hai notato che l'auto stava salendo cioè Saraschi grazie per i tre oh mio dio zia ma che cazzo hai fatto ma che hai fatto c'è gli ha dato le pinzette oh mio dio zia ma che cazzo sì ma un po' meno un po' meno capisco voler sfoltire le ciglia ma ti è rimasta una linea cioè ti è rimasta una linea talmente sottile che oramai è in 2D cioè voglio dire è un vettore quello che ti è rimasto è diventato Dragon Ball è diventato Goku Super Saiyan Tartole Sai ti potrà sembrare strano ma la maglia la puoi togliere girarla e leggere so che sembra impossibile so che sembra impossibile so che probabilmente credi che una volta indossato una maglietta questa ti si fissi addosso e non potrai mai più rimuoverla ma se proprio vuoi leggere puoi girare cioè non è Hakuna 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 Complimenti zio bravissimo hai appena vinto una borsa di studio per il mito Hakuna 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 ho e basta l'hai letta ma che c'è l'incoglionito you don't know where it's from this is my girl Luke sir grazie per la sua ma la dico they just found out that nails grow from the bottom and not the top profilo grazie per i sette Danny grazie per i sette ventrani per a rile ma tini ha detto che la sua ragazza alla veneranda età di ormai 47 anni ha scoperto che le unghie crescono dalla base e non dalla punta eh eh sai com'è sai com'è è un po' come credere che i capelli crescano dalle punte e comunque e comunque grazie per i 200 c ma ti no che comunque ragazzi comunque ragazzi io io ho conosciuto seriamente una persona che era convinta che i capelli crescessero dalla punta infatti lei ve lo giuro ve lo giuro lei non capiva come si formasse la ricrescita diceva se i capelli crescono dalle punte com'è possibile che la ricrescita compaia sulla base se l'ho sentita effettivamente io non conoscevo il proverbio break your leg per augurare buona fortuna però due domande te le potevi porre voglio dire se una tua collega ti lavoro ti dice ti spezzo una gamba poniti poniti il problema non ti sembrerà strano voglio dire non ti fa strano che una collega di punto e bianco ti dice ti spezzo una gamba è in bocca al lupo si si io non mi ricordo non lo sapevo si diceva così guarda devo dire che effettivamente la sua capacità di spalmarsi la crema solare sulla schiena è stata efficientissima bravo non avrei saputo spalmarmi meglio la crema solare cioè da qui a qui il resto della schiena no ottimo lavoro perfetto guarda perfetto bravissimo 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 no però la cosa che mi fa ridere è che uno si sorprenda capito cioè come fai a sorprenderti di essere stunato la schiena se non l'hai messa ok ok ho comprato una jeep wrangler e ero super super excited ho comprato una jeep wrangler e ero super super eccitata finché ho realizzato ma che cazzo via ma sei ricoglionita cioè tu hai comprato una jeep e una volta arrivata a casa ti sei resa conto che la guida era a destra una volta arrivata a casa una volta arrivata a casa cioè tu hai visto una macchina ti è piaciuta l'hai guardata l'hai osservata ci sei salita l'hai provata e solo una volta arrivata a casa ti sei resa conto che il volante era a destra cioè tutto il tempo prima che l'hai guardata non ti sei resa conto ma zia ma scusa ma come hai fatto a non renderti conto ma scusa ma scusa no però scusami io capisco tutto no scusami io capisco tutto io capisco tutto io capisco confonderti con uno specchio però dio cane cioè come fai a non vedere che ci sei tu davanti come fai a non vedere che ci sei tu davanti cioè che cazzo è il tuo fratello gemello che vive in casa e cammina coordinato con te come fai a non renderti conto che davanti a te ci sei te stesso scusami eh voglio dire ma no non può capitare ma come fai a non vederti ma sì se non guardi lo specchio ma non mi sembra non stia guardando lo specchio mi spiace cioè non ha superato non ha superato il testo dello specchio Andrea 1988 prolly almeno non ha superato di sua propria riflessione ah sei ubriaco è giustificato no dai ma cosa stai dicendo ma come hai fatto ma come hai fatto a bloccare una stura lavandina in testo ma che cazzo dice ma che cazzo dice oh it's stuck oh ok come ok you have to be gentle devo farlo assolutamente no non ce n'è ragazzi devo farlo devo farlo cioè è una vita che voglio farlo ora devo farlo l'ho già vista video di tweener ma la tiro ma che cazzo dice so this dude made a video drinking boba you know those little chewy tapioca pearls let me live my life and the drink that's just how I do it guarda che ti strozzi you don't even there's nothing wrong with it yeah there is something wrong with it what's the point of the boba if you don't chew it eeeh vabbè lui pensa che quelle palline vadano ingoiate non masticate cosa vuoi che ti dica eeeh cosa vuoi che ti dica oh contento lui contento lui contenti tutti lui le palline non le ma quello per chi non lo sapesse perché magari non lo sapete è un tè con dentro delle palline che ti mozzi che esce fuori un sapore no lui se le ingoiava direttamente un tacchino proprio easy easy mi ha fatto un sacco ridere mi ha fatto un sacco ridere voglio vederne un'altra perché questa questa è un'altra signora ma che cazzo sto guardando signora ma che cazzo lei sai di conto che si accende una sigaretta salta per aria tutto il kentaki signora sicuramente per la very first time in her life took the gas ma'am can you not smell that's gasoline a parte che scusa tu non senti l'odore che ti spacca il naso ma non ti non water si puliamo per bene perché si veramente penso che avrà speso 100 dollari di lavaggio maybe she didn't know she was supposed to put it in the hole like how do I refill my car ora asciuga con l'accendire la sigaretta watering it like it's a dang house plant e Giorgione disse flambeo abbastanza 1, 2, 3, 4 eh è un trapezio a quadrangolo un quadrangolo che cos'è un quadrangolo che cazzo è un quadrangolo un quadrangolo cos'è il quadrangolo vabbè è un quadrangolo va bene quadrangolo vabbè un quadrangolo si sta ci sta un quadrangolo c'è il triangolo c'è anche il quadrangolo ragazzi scusate scusate se c'è il triangolo perché non ci può essere il quadrangolo perché non ci può essere il pentangolo e l'esangolo e l'heptangolo e l'ottangolo tangolo cioè e il non angolo scusate papà ragazzi vedrai ma di no tutto angolo è tutto angolo quadrangolo pentangolo esangolo what's for dinner let me just is a trapezoid what's for dinner tu hai messo un piatto di ceramica sul fornello sì otagono scusami cioè tu hai messo un piatto di ceramica sul fornello ma che cazzo stavi cuocendo uno yogurt ma cosa stava cuocendo scusate che cazzo stava cuocendo uno yogurt cos'è che stava ma stavi cuocendo uno yogurt ma che cazzo non so non so cosa dire se non lo sapevo prima ora lo sapevo nulla di yogurt sì ma poi va un influencer va alla thrift store per la prima volta e pensa che tutto in una thrift store è gratis ma'am 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 non lo compro c'è questa si è fottuta tutto no sono per sale questo è una thrift store non è? pensavo erano free non è free oh free sale non vuol dire gratis free sale vuol dire libero di libero di essere roba libera roba che si può vendere free sale free sale non vuol dire ruba tutto e scappa via cioè free non si intende fotti tutto non pagare cioè how embarrassing free per lei era gratis era prendi tutto e va a fa culo cioè ma qual è il problema mio padre una volta ha messo una teglia di vetro sul fornello si è rotta e ha fatto una vampata ma meno male che non ha per fortuna non ha preso fuoco la casa ma meno male grazie per le ciro è ok non è ok aspettate aspettate non stop 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 non sono free sono sicuro sono sicuro di questo? sono fuori ma scusate ma se hai un case chi è un case cosa è il punto di avere il case ma sei menomata cerebrale se voi pulite il portacellulare la cover qual è il punto di di comprare una cover ma che cazzo dici la cover la compri per non rompere il cellulare non perché non si sporchi ma poi che cazzo c'entra allora ci cago sopra la cover qual è il problema mi ci pulisco il culo ci metto la merda sulla cover tanto è una cover è fatta per quello no qual è il problema scusami è ovvio cioè non ha assolutamente ha perfettamente senso cioè sì ma anche se la prendi sì ma anche se la prendi chiara cioè anche se fosse intendeva che era trasparente anche se fosse che sì ma non è la mia situazione comunque non migliora ragazzi perché se la intendeva perché compri una cover trasparente è ancora peggio perché perché si compra una cover perché se io ho tratto male ma la situazione non migliora ragazzi perché si compra una cover e perché si compra una cover boh è il è è è il è l' è è è è è è è I thought right here you could cut it and then connect it like over there and over there and then when I cut it all of this stops lighting up why is there a picture of scissor is there zea ma porca madonna le forbici stanno a indicare per tagliare fino al punto in cui ti serve non che puoi tagliare i led alla cazzo di cane lei ha preso una striscia led no? ha preso una striscia led ha tagliato perché ha visto che c'erano delle forbici quindi ha tagliato la striscia led e poi gli è rimasto in mano tutto il rullo del led tagliato senza presa elettrica e quindi ha chiesto perché c'è simbolo delle forbici perché tagli l'eccesso del led non tagli il led poi lo tagli cioè la forbice è per indicare che l'eccesso di led dopo che l'hai srotolato tutto l'eccesso lo tagli non che parti dalla base attacchi un led taglio e poi mi rimane in mano tutto il resto del led senza presa e come cazzo pensavi che arrivasse l'energia elettrica al resto del led scusami se tu tagli la corrente come ci arriva però questa vabbè dai questa sorvoliamo dai dai questa sorvoliamo è anche passabile questa la passiamo dai che cazzo che cazzo stai facendo adesso tu spiegami che cazzo stai facendo guarda che ciccia l'auto non è un terreno con le piante l'auto non è che si innaffia che sia olio che sia antigelo non ho visto bene l'auto non è che va innaffiata ciccia non è un terreno con gli alperi cioè che cazzo stai facendo metti l'olio così tanto l'auto lo assorbe per osmosi più o meno è una spuglia vabbè questa è una bastardata perché questa cosa ti esplode in faccia se la mozzichi ma c'è il video che è mostica che fa morire da ridere e non so se c'è il video ah non c'è non c'è non c'è 15 minus 8 ma come sei ma come sei ma che cazzo dici ma come sei 15 meno 8 sei ma che cazzo dici ma come sei ma come sei ma come sei ma ragazzi no parole c'è io non posso creare c'è gente che non sa fare 15 meno 8 ma che cazzo ma 15 meno 8 ma che cazzo Ho appena finito di vetrare il mio pneumatico così è più liscio e ha un aspetto più bello. Va bene, ti toccherà spendere altri 200 euro tipo pneumatici, ma va bene, va bene, va bene, qua è il problema, mica slitterai l'avanti, mica squisci, no no no, qua è il problema, lo pneumatico ho messo così, belli slag. In compenso penso abbia raggiunto uno stato di attrito zero, cioè può slittare in avanti per tutta la città. Ha detto che la macchina vibrava nonostante avesse fatto un allineamento l'altro giorno? Jax, grazie per i tre, patatino, ventola per armate, mi congratulazioni per la laurea, patatino. Sì però zio scusami, cioè è ovvio che non ti sembra allineato, scusa, finché guidi sul cemento fresco ti si incolla la ruota, scusami ma... Ma poi tu non te ne sei accorto, tu non ti sei accorto che sulla tua ruota c'era del cemento fresco appiccicato, se magari non guidi nei cantieri e... Sì proprio dopo che tu puoi ottenere il tuo allineamento. What? That is a good thing to do! Not drive on wet pavement! That will vibrate for you! Fool! Me working out every day so my kids can have godly genetics. Vabbè questa è una trollata dai, questa è una trollata, no, questa secondo me è la presa per il culo a quella influencer che disse... Cioè ha detto io che faccio allenamento tutti i giorni così i miei figli avranno una buona genetica, questa è una trollata, questa è una trollata... Ma è una trollata a una ragazza, io non so se l'avete vista, e lei non stava trollando, una influencer si è operata al naso perché ha detto che così facendo i suoi figli e quindi avranno anche loro un bel naso. Francesco grazie per ricordare il mattino 23 per armate! Voi vi rendete conto in che mondo viviamo, vero? Voi vi rendete conto in che pianeta viviamo, vero? Voi vi rendete conto con chi condividiamo l'ossigeno? Voi vi rendete conto, vero? E secondo me lui non è serio, secondo me lui sta facendo la presa per il culo a quella tizia qui Penso stesse facendo la presa per il culo a quella tizia lì, non penso fosse serio il tizio Anche questa secondo me è un'altra presa per il culo a quella tizia lì, sì 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 palesemente è una trollata anche questa Come la capitale d'Europa scusami Il Giappone è la capitale d'Europa Il Giappone è la capitale d'Europa Beh ovvio, non fa una piega Non avrei saputo dirlo meglio, non fa una piega È giusto, brava, il Giappone è la capitale d'Europa Supergirl, sì Bro, non so cosa dire, prendi questo, ti vuoi Ti vuoi, ti vuoi il contesto di stupido Che ti avrei saputo in scuola? Niente? Photosynthesis? Il mio paese è una casa di potenza della cell E' tutto? E' tutto che ti ritrovano Giappone E' il capitale E' il capitale E' il capitale Ma io capisco non sapere, se io capisco non sapere un ca... Però, come fai a dire Giappone? C'è, Giappone Questo vuol dire che l'America ha sganciato una bomba atomica sulla capitale d'Europa che è Giappone Cinque paesi d'Europa, adesso signora, su dai, che cazzo, cinque paesi d'Europa E' Grazie Io personalmente Scutland Oddio Beh Cioè 니 Mii Beh Nì Sì Le senso Ni Ben Ok T'agia Ok Qualcosa che non sia nel Regno Unito Londra Londra, ovviamente Dimmi Tu non mi segui su YouTube Vami a seguire subito su YouTube L'ho già portato due giorni fa E anche ricaricate il video Andrea del 1988 ottobre E ora fai 100 sub Sì, stasera ci giochiamo The fact that they are British too No words, only mild disappointment Very funny Vabbè Londra, vabbè I thought that for some reason Poolwater would come from the pool company Who gets it from, I don't know The pool water distribution, but no All we're left with Is a dinky little hose That's been running for the last week The pool water No, no, questo non l'ho capito Company you say The pool company comes over They use your hose Vivo nelle caverne Non apro social da tantissimo Chiedo venia a Grazie c'è il bandino No, sto scherzando ovviamente No, sto scherzando ovviamente Questo non l'ho capito, scusate Così rincoglioniti però Non puoi non vedere Cioè, sei mesi Sei mesi Io capisco Dici due giorni Tre giorni Una settimana Cerco efficiente di rincoglionimento È elevatissimo Sei mesi Che innaffi una piatta E non ti sei resa conto Che fidda Sì, understandable Però, Cristo madonna Cioè, se l'ha comprata lei Veramente siamo messi male Ma che cazzo stai facendo Stai mettendo l'impasto dei waffle Zio, ma sei cretino Ma ti salta in aria Ma cosa stai facendo Ma c'è la pasta dei waffle nel tostapane Cioè, anche quello lo metti nel tostapane C'è nel tostapane C'è l'impasto dei waffle Il pollo tutto nel tostapane Magic, grazie per i dieci Maratino Tosta pane Tosta pane Penso si stia carbonizzando tutto Un senz'attento ha tentato di sfondarmi il vetro Per rubarmi le sigarette La portiera era aperta Vabbè, vabbè Vabbè, mi ha dato per scontato Che fosse chiusa la portiera Guarda che penso si sia spaccato la mano Effettivamente Perché il vetro delle... Ottima idea Ma dovevi essere sicuro di filtrare tutto Anche la pasta Ottima idea Ottima idea Allora beh, buttala, è inutile Che cazzo ti pulisci? Che cazzo ti pulisci? Buttala, che ti pulisci? Ti stavi mangiando la mascherina Buttala, che ti pulisci? Ma infatti mi ha fatto ridere Che si stesse pulendo dopo Hai messo il tagliere di plastica Nel forno acceso Ma perché lo hai fatto? Ma perché lo hai fatto? Putting a cutting board In the oven In the microwave Illegal It's made of plastic And what did we learn today? Plastic when exposed to high heat Non era proprio così piccolo Quel ragazzino Non sapere che la plastica Si scioglie col calore Melts If it doesn't make a clang sound When you hit it Don't put it in the oven You know, common sense Is not so common apparently Somebody born in 2020 We'll see the year 3 Samu, grazie per gli undicipanti No Yes, grazie Wild Si, si, si Qualcuno nato nel 2020 Vedrà tra 80 anni Vedrà il 3000 Si, si, assolutamente Funziona così il conteggio degli anni 2000 2099 3000 3000 3099 4000 4000 4000 4099 5000 Si, si, si Assolutamente Così che funziona il conteggio 2100 Wait a damn minute Jesus Cristo è nato 200 anni fa Non so bene 2020 Plus 80 That is 20 2100 Che cos'è il 2100 2100 They will see the year 2100 I live through a new millennia You know, like the year 2000 You know, the year 3000 Is in almost a thousand years None of us gonna see it This is why you don't get in the baby swings Like, do people not see Ma che cazzo fa Ma come hai fatto a incastrarti in un'altalena per bambini How small the baby swing is And be like Yeah, I probably can't fit in it But I'm gonna try anyway Ma come hai fatto a incastrarti I was like No, ma in primo luogo perché cazzo ti ci sei messo Paramedics gonna waste their time Getting you out Me wondering what happens if nine of us jump in an elevator Già la faccia della tipa dice tutto sul quoziente intellettivo Io che mi domando cosa succede Se ci mettiamo in nove a saltare in un ascensore Ma chissà Ma chissà Chissà cosa potrebbe mai succedere Se in nove vi mettete a saltare su un ascensore Fammi ci pensare Secondo me per via del peso eccessivo che verrà a formarsi L'ascensore attiverà i freni d'emergenza E vi bloccherà a metà del palazzo Perché sfortunatamente li hanno fixati E ora gli ascensori non possono praticamente più crollare Perché hanno dei freni d'emergenza Se lo facevate 70 anni fa Volavate, sfrombolavate giù nel seminterrato Yeah, this cannot be a good idea Like, oh no There are weight restrictions for a reason And like the fact that y'all are just jumping Surprise, surprise, they broke the elevator What was the reason? Incredibile amici, non l'avrei mai detto Non l'avrei mai detto Yeah, she's finally back Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma perché sei l'ancerta contro... Yeah, she's finally back Ma cosa fai? Ma come ha fatto a non vedere il vetro? Deconstruct my molecules real quick and just I didn't see the window Somebody tweeted Bank of America I don't understand the... No, no, ragazzi No, no, dai Dai, no, no, no No, no, no No, no, no Cioè la gente è troppo rincoglionita, ragazzi Cioè uno ha postato su Twitter Non capisco la plup mobile della Banca d'America Mi potete aiutare? Questo è il mio username Questa è la mia password Su Twitter No, dai ragazzi Dai ragazzi Io non ci posso credere, la gente non può essere così idiota, dai, cioè non possiamo vivere in un mondo di gente così idiota, per me è inarrivabile, per me è inarrivabile, la gente è troppo idiota ragazzi. Ha detto, mi hai chiesto se guardo N.I.M.E. e cos'è, un nuovo film? Ma dai, ma scusa, zia ma dove vivi? Ma dove sei vissuta fino adesso, zia scusami? Dov'è che sei, a parte che spiegami perché sei un dalmata, perché c'hai il vaiolo? Cos'è sta roba? Perché c'hai il colera in faccia? Sono le teste di cazzo così che al mondo incrementano la razza dei ladri, dico bene? Grande citazione a Full Metal Jacket, grazie mille città. Guarda, io rifiuto di credere che questo non sia uno scherzo, è il tipo di prima che ha messo la password del suo conto bancario su Twitter? Pensoci bene, pensaci bene. Francesca, grazie per il 17, Martina. No, dai ragazzi, no, dai, vi prego, c'è io... Perché c'è una candela con numero zero? Nessuno festeggia gli zero anni? No, dai ragazzi, io... No, dai ragazzi, dai, non può essere, no gente, non può essere così deficiente ragazzi, dai, vi prego! Ah, questa è la peggio per il culo a fa... Ma che cazzo sto guardando? Zia, ma che cazzo ho visto? La colla a caldo sui capelli... No, 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 no... Ma che cazzo di problemi hanno quelli di Five Minute Craft? Life changing hacks right here. Y'all ain't even embarrassed. Korean, you can have it, I do not want it. Here, let me, I got you. How much money for your hair? No, no, no! C'è perché uno ti ha detto quanti soldi per i tuoi capelli e tu te li sei tagliati. Oh! There you go. You know, it costs zero dollars and zero cents to, like, not do this. That's how I used to cut my Barbie's hair. Vabbè, ma questa è gente esaurita, quindi... The really dull scissors, like... Sì, è una ciocchetta, sì, però non è che il tipo l'ha pagata, eh, cioè, il tipo ha fatto un commento, eh. I don't think this is how it works. Ma... Adesso... Spiegare, per grazia divina, come ti è venuto in mente di mettere la barca sul... Sul... Sulla macchina. Cioè, non dietro, sulla macchina. Ah, ma no, aspetta, ma ha fatto un incidente... Oh, no, ok, correggo. Ha fatto un incidente e la... Ho visto adesso la macchina smasciata dietro. Deve essere questo. Quello l'ha tamponato e la barca gli ha finita sopra. Va bene. La barca sul topo di un'auto. Vi vedrai qualcuno che lo mettere sul topo di un'auto. Come, y'all ha un hitch. In la back, si lo prende. Ma io non ho un trolley per prenderlo. Lo mettere sul topo di un'auto. Come avete anche la barca? Come avete anche gestito questo? Abbiamo anche il squadrono che mettere la barca sul topo? Y'all barely made it out the neighborhood before getting into an accident. How did people know what roads to take before Google Maps was made? You know? Come faceva la gente a capire quale strada prendere prima che fosse inventato Google Map? Le mappe. Le ma... Se... Le mappe? Senza Google. Le mappe. Google Maps. Google Maps. Maps. Mappe. Presente ma... Le mappe? Eh, usavano le mappe. People used maps. No, I said before Google Maps. Oh mio Dio. Ahahahahah. 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 Dai zio, ma cos'hai in otto anni che non sai che cos'è una mappa? Ma mi prendi per il culo? Ma cos'hai sette anni che non sai cos'è una mappa? Maps. You would either print them off the internet, or like... Sa come faceva la gente nel milleotto a gestirsi le strade senza Google Map? Buy them. And then like you would have to like look and like read a map and like mark where you want to go and like the directions and stuff. Quite difficult. Also, we still had road signs. Bellissimo. Bellissimo. Lei me la salvo perché mi fa veramente sbragare da ridere. Bellissimo. Bellissimo. Poi volevo vedere anche... Dunque, vediamo un attimo. Abbiamo un po' di cose da vedere. Incluso Ratorix tra l'altro eh, ma... Mmm... Mmm... Ma si dai, voglio vederlo Ratorix. Cioè, voglio vedere anche Ratorix. Ragazzi, ahimè, daremo un'occhiata a delle persone che hanno troppo talento. Rato, ho trovato la tua versione americana donna. Ratorix. Ratorix. Scusate. Ratorix. 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 Ragazzi, ahimè, daremo un'occhiata a delle persone che hanno troppo talento ma decisamente un gusto pessimo. Oh Full Taste but Great Execution. Ovvero il subreddit nel quale le persone fanno porcherie, ma le fanno bene. Hai scelto letteralmente il peggiore font al mondo da to- Comic Sans Quarti eh Vabbè suppongo volesse fare la cosa più brutta Ma cos'è sta merda? Ma cos'è questa merda? Ma questo è un tatuaggio Ma cos'è sto schifo? Questa possibile e complimenti ci sei riuscita Mamma mia Che poi regà adesso ve lo rovino ancora di più Non soltanto ho utilizzato questo font ma scommetto l'ho fatta apposta La scritta non è centrata ed è sopra un altro tatuaggio Ma perché devi odiare il mondo in questa maniera? Mio Dio Questa è la pelle di un assassino Bella Non ho capito il riferimento Penso sia un film non guardi Zia ma che cazzo Questo è il tatuaggio più brutto Che io abbia mai visto in tutta la mia vita Io credo che tatuaggi così brutti Non credo Ma scusa l'hai pagato 4000 lire sto tatuaggio Cioè sei andato dal ferramenta a fartelo fare Quentin Tarantino Sì non guardo i film Passiamo alla Che cos'è sta roba? Che cos'è sta roba? Ma cos'è? La polpo madonna Che cos'è sta roba? È madonna Ursula È la madre del signore per binariel Calamari 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 Mera che tristezza Oh mio Dio Stupendo Stupendo Calamari No non siamo blasfemi Per favore Va bene così Il mio palegname con 30.000 lire la fa meglio Non ha neanche le unghie Che vedo questo sapredit Io vi giuro Non è che io mi indigno Questa qui diventa la mia nuova shopping list di ebay Amazon La voglio La voglio anch'io la calamari Del genere C'è sempre un sacco di roba Pichissima Oddio Non so come chiamarla questa cosa Te lo dico io Abomino Guarda Ti dico la verità Cioè Guarda Ti dico la verità Cioè Sembri l'omino Michelin Che ha messo tutto il grasso Dal busto alle gambe Più che altro Sembri Sembri Il fratello di Frankie Cos'è sta roba? Io Io rega vi posso dire che Sam Smith sta impazzendo Ma scusa ma io se cammino Abbazzo tutti con sto roba qui Ho altre parole Che poi non ho capito che cos'è che dovrebbe essere questo vestito Madonna Pare Kim Kardashian ma un pochetto più storta Anzi più che altro sembrano le tute subacquee quando mi c'entra l'acqua dentro Bruttissimo Madonna Ma poi come cavolo fa a camminare? Sì veramente ma che cazzo di vestiti di merda sono questi? È un papino come un teletubbies Mi ha scureggiato dentro la tuta subacquea È probabile Probabile Vabbè Però vi posso dire almeno non ci suda Questo qua rega non gli potete dire niente Beh non si suda insomma Ma col calore corporeo se non esce sudi eh Costume da scarafaggio rega Costume da scarafaggio No Rega ma per forza doveva essere Ma chi? Chi? Chi mai si comprerebbe un costume da scarafaggio? Chi? È una giapponese Guardate c'ha giapponese scritto in faccia Solo i giapponesi hanno un gusto così sublime per gli scarafaggi Ok? Rega io ve lo dico Gli scarafaggi sono il futuro Non potete farci nulla Voi immaginate Entrate a casa di questa persona e sta lì straitando Ah io lo scambio per uno scarafaggio gigante Gli do fuoco con una molotov Te lo dico Il pavimento Che sto messa così Ah sì Buttami della sporcizia addosso Sì Così mi piace Oh mio dio Odio questo Sampreddit Rega fatemelo dire Ah rega Vi posso dire una cosa Questo computer drippan Ma è bellissimo È il computer della nonna Questo è tantissimo Il computer della nonna È bellissimo Ma è stupendo questo qui È il computer della regina Elisabetta Cioè qua stiamo unendo il tradizionale con il moderno Ma elettoralmente No ma manca un centro Manca un centrino Devo dire la verità Per essere completo qui ci vorrebbe un centrotavola Quello bianco Manca il centrino per essere completo Però però Stupendo Mi piace tipo Il cupido della Gorsair Eh per le nonna che giocano e abbriscano online Sapete che c'è Quasi quasi sembrano tipo Non lo so Segni nordici Considerando quanti ne ho visti Che sembrano una fattoria di scarafaggi Questo è Posso dire però una cosa Posso dire Cioè io papereviamo alla follia Cioè io papereviamo davvero tantissimo Siete veramente Una delle cose più belle Che mi sia mai capitata Però avete dei problemi mentali ragazzi Cioè vi rendete conto Che io ho fatto più spettatori con Briscola Che con Resident Evil 4 Cioè io non so che problemi mentali abbiate Io ve lo dico Io ve lo dico Cioè Ma io che li compro a fare i giochi Scusate Posso fare gameplay di Briscola Che cazzo li compro a fare i giochi Scusami Voglio dire Molto rinfrescante Oddio Raga Vi giro questa frase La capisco troppo Belli che siete Come non detto ragazzi Alcuni cani nascono in famiglie piene d'amore Molti altri no Le borse sono L'ho vista adesso Ma che schifo di borsa è Ma che se è la borsa a forma di topo L'ho vista adesso Che schifo è quella borsa Soprattutto quando sono a forma di ratto Scommetto che non l'avete visto fin dall'inizio No l'ho fatto caso adesso Molti di voi non se ne sono accorti Ma è una borsa a forma di ratto A forma di ratto Rix La voglio Ma rega ma si vede che questa persona ha ottimi gusti Guarda questa persona è vestita da businessman Cioè sa benissimo quel che sta facendo Sì tra l'altro è nata con qualche difetto genetico Perché c'ha un 97 di piede Cioè non mi sembra alto 2 metri e 90 Questo qui è solo che classe Beh a quanto pare ho appena scoperto che questa borsa costa migliaia di dollari Quindi sì Ma può restare lì tranquillo La voglio ma non me la posso permettere Che peccato Mi posso dire che questa immagine sembra legge Questo è figo Mi spiace questo è figo Questo è un taglio di merda Però spacca E beh ragazzi Non c'è un cazzo da dire È una merdata però Spacca di brutto Poi è fatto un fatto benissimo Si è fatto veramente benissimo Questo spacca Tipo lui che sta tenendo Vegeta per la testa Sulla capoccia Vegeta spacca È fatta benissimo Cioè sto tipo è troppo bravo Assurdo Non andrei mai in giro con un margin Vegeta Sulla nuca No neanche io Però spacca Però nonostante tutto è fatto troppo bene Sembra quasi che si è fatto la foto con il suo migliore amico Lo sta tipo tenendo per la capoccia Bellissimo Oddio raga questo qui è un trend che odio In pratica sono quei tatuaggi che sono sfocati Ma in realtà non sono sfocati Ah che fastidio Cristo Ma letteralmente la persona che se li fa tatuare sfocati per quale voto Oh Cristo che fastidio cazzo Io dovresti fare questa cosa Che poi come cavolo fanno a farli No no è fastidiosissimo Che assurdo Grazie i miei occhi lo odiano Ma cioè ho sperimentato come vede Naomi tutti i giorni Cioè ho sperimentato Ho sperimentato come vede Naomi le cose Sì fidati mamma mia anche i miei mi fanno male soltanto a guardarlo Pensate a farvelo Quello penso che faccia un po' più male comunque Ma poi fatemi capire con il tempo il tatuaggio diventa più o meno chiaro Una volta che si degrada Che fastidio Magari con il tempo perde la sfocatura e quindi diventa normale non lo so Jeans 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 Ma cos'è sta roba Ma cos'è sta roba Jeans Wow Wudu T Bello Bello Dio regala roba per farsi il tè però Bello Impiccato Nooo Bellissimo farsi il tè così Che figa Questo mi piace il tè Wudu Permettete anche il nome del vostro amato Oh stupendo Oddio una torta che è fatta tipo di medicinali Questo è bene Questo vedi Questo Questa è una torta secondo me più femminile Che le donne regalano a quella amica schizzata che hanno nella compagnia Perché costantemente nella compagnia di qualche delle donne c'è sempre una che è schizzata Quindi secondo me secondo me questa è una torta che una ragazza regalerebbe a una sua amica schizzata Buon compleanno Rico È la torta di genio matematico Non lo so Qui Rico è un drogato oppure un malato terminale Oh Dio Dipende l'oxidocone L'oxidocone Oh soccime L'oxicodone si usa anche come mi pare trattamento di droga se non sbaglio Chissà quanto costa una torta del genere ora che ci penso ma poi chissà quanto pesa sembra enorme Che poi vabbè che questa torta è stata fatta appunto dai conoscenti di questo signor Rico Vabbè è ovvio scusami Pensate come vi dovete comportare davanti a loro affinché loro vi creino una torta del genere Voi dovete essere la persona con la quale non ci si annoia mai ma che causa sempre un sacco di problemi nel gruppo Delle scarpe di Gengar Che fighe Toxic aspa Sì l'abbiamo visto e questo è l'altro giorno Quella con squirto che spruzza l'acqua Quella con charmedere che fa uscire il fuoco Oh ma mi posso dire che questa roba è una figata Bellissima Mamma mia ma è pure fatto benissimo No regà ma io ve lo dico è stupendo io assolutamente ho dei pessimi gusti Cioè sta roba è bellissima Più che altro sì capisco il fumo È molto tossico e probabilmente dà anche fastidio alla gente quindi ci sta che Motivo in più per indossare Ti ha pessimo gusto Più che altro scusa ma a sto punto fai una roba uguale con Koffing Ci sarebbe perfetto mamma mia No Koffing fa schifo Io sto odiando con ogni singola Allora ti dico non mi dà particolarmente fastidio però sei stronzo Cioè nel senso tu vuoi che io mi spacchi un ginocchio Cioè tu vuoi che quando invito i miei parenti a casa loro si spacchino una gamba Perché è questo che vuoi Tu lo vuoi perché Cioè a me non dà troppo fastidio perché col fatto che ci vedo molto bene Ho un'ottima vista riesco a distinguere perfettamente Però cioè se io fossi un po' ubriaco Luce spenta io mi ammazzo Cioè mi spacco un ginocchio Cellula del mio corpo questo bagno Cosa diamine è Cioè io ve lo dico raga Inciampato Conosco un tizio di cui poco preferite Koffing Koffing Pokémon preferito Fare qua è detto poco Io qua non inciampo Io qua appena tocco il pavimento mi ritrovo nelle backroom Regà non ti importa da dove lo guardate ci sono tipo delle superfici nuove Cioè ma no è tremendo È tremendo ragazzi È tremendo sto codo Cioè ti vengo a spaccarti un ginocchio Ma come vai? Cioè là ci sta un volosorno a rientranza Che cavolo è? Ma dov'è il doccino? Dov'è il doccino? Questa docce è una droga Questa docce è un viaggio psicadelico Questa docce è un viaggio psicadelico di LSD Vedete ragazzi da oggi quando mi chiederanno qual è il mio taglio di carne preferita Gli risponderò in Rasengan Bello Il taglio di carne preferita in Rasengan Il tuo Pokémon preferito? Direi che si nota Direi che in qualche misura o maniera più o meno si nota Qual è quello che piace a me Il Rasengan Capitelo Basta Cioè non c'è altro da dire Il Rasengan migliore taglio di carne al mondo Punto Il Rasengan Rousengan Regà per favore non lo dite Non lo dite Faccio fatica Rat Faccio fatica Qua qualcuno si è masturbato sulla scarpa Qua qualcuno si è fatto una gran segona sulla scarpa Quindi se hai una scarpa di una ragazza ci sta perché sono tutti fissati coi piedi ti fai le pippe anche sulle scarpe Una scarpa Andrea che ne pensi di riordinare il desktop Ti sembra forse una donna che riordino le cose io? Andiamo avanti Ogni volta io ve lo dico per favore non lo dite Sono scarpe da 2000 dollari Ok capiamoci Quindi sono delle ottime scarpe Sono ispirate Al Silicone Sì 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 a silicone Sono bellissime Sono molto confuso Sono molto confuso In questo momento c'è della confusione in me Perché una parte di me vuole dargli fuoco Una parte la vuole C'è confusione in me Una parte di me vuole distruggere Una parte io voglio andarci sopra e fare tipo tipo come i gatti Che mi si struscio così Sono queste le macchine green di nuovo regà Ma che cavolo è questa moda Odio le macchine green Metteteci i fiorellini sul tettuccio roba del genere Aggiungiate qualcosa Se anche l'interno è così io mi addormento però Cioè se l'interno di quest'auto è tutta così morbida io mi addormento Andre ma a te piacciono i piedi? Cioè normale Sono più da culo e tette io sinceramente Sono più sul classico Però Cioè se l'auto Se l'interno dell'auto è così morbida Uno guida si ammazza in autostrada Ti addormenti Cosa non soltanto verde dai Wow Darth Vader con i vestiti della Lavoglio Lavoglio Louis Vuitton Avrò storpiato troppo il nome però non mi interessa Beh vi posso dire che in questo caso sta drippando Lavoglio Mamma mia è troppo forte No regà vi giuro mio padre Battuta assolutamente non voluta Luke Questo bagno Per favore ditemi che il gabinetto è trasparente Che cazzo Mamma mia Un bagno Un gabinetto è trasparente No 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 zio ma tu sei fuori Un gabinetto trasparente No ma che cazzo Ma dai Ma un gabinetto trasparente No ma Cosa ho appena partorito Cosa ho appena partorito la mia capoccia No 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 Vedi la merda che se ne va via attraverso il sifone Oh no per favore non lo fate Lo faranno Sono sicuro che lo faranno Devo essere io il primo Game of Orns Figa Però figa Molto figa Questa è proprio È la classica poltrona di tuo nonno Dopo che ha battuto tutti quanti a bocce E si è autodichiarato Imperatore del regno Del boccino È proprio È la sua Ma mi posso dire che sembra essere quasi un alieno Soprattutto la parte sotto Come che cos'è sta roba Un po' giapiedi suppongo È bellissimo allo stesso tempo Sembra troppo tipo Oddio come si chiamano I facehugger Non so come si chiamano in italiano Quello non è un facehugger però Vabbè avete presente quelli di Half-Life No i facehugger sono quelli di Alien però Sapete che sembra quasi comodo Mi ci vorrei sedere Hanno ricoperto un intero albero con un vestito fatto all'uncinetto Vabbè è la nonna Questa è la nonna proprio Cioè io dopo questo Questo è tua nonna Il reparto di geriatria La nonna senza nipoti Ah chi fa il vestitino all'uncinetto All'albero Sto a dire di aver visto tutto nella vita Ma che cavolo Bello l'albero all'uncinetto Molto bello No dai ma che cazzo dici Ma che cazzo sto guardando Cis No No non riesco a farmelo piacere questo qui Questo è veramente orrendo Madonna Granpa City Cioè Ma perché io odio le cose fatte all'uncinetto Cioè fate Ma a me non è che le odio È solo che mi sanno d'anziano Va bene ancora le sciarpe Ma questa roba qui non è guardabile Mamma mia È tipo pizzo in realtà Hanno fatto i vestiti sexy per gli alberi Io già me lo immagino il dendrofilo del quartiere che Il dendrofilo Guarda Non credo che ai dendrofili Arrapi l'albero all'uncinetto Eh però Venomale Secondo me Sarzano un po' di vecchio anche per lui Quindi Un po' troppo tamarre Mi piacciono le cose tamarre Però Un po' troppo tamarre Sì vabbè dai Quest'auto ti prende a pugni Cos'è un dendrofilo? Uno che si scopa gli alberi È chiamata dendrofilia Quella parafilia Che corrisponde All'attrazione sessuale E al desiderio Di scoparsi Gli alberi Non mi chiedere come fanno Non lo voglio neanche sapere Dove mettono il pisello Non mi interessa Avranno il prepuzio disintegrato Avranno la cappella Fatta a taglio Perché Non lo so Non mi chiedete Non mi chiedete Come fanno i dendrofili A scoparsi gli alberi Io non lo voglio neanche sapere Tostine Esistono Ma le parafilie Ce ne sono mezzo miliardo Ne trovi 1600 miliardi Di parafilie Ne trovi 600 mila Gente si scopa gli alberi Gente si scopa le macchine Gente si scopa i ponti Si sente che si scopa Le bambole E non gonfiabili Perché quello lo facciano tutti Ed è assolutamente normale È vero che è normale Gente che si scopa La tua filia Gli animali 2005 Penso Questa roba era famosa Rinoa grazie per gli ucciparatini Però soprattutto sul cofano Non sulla portiera Forse è la portiera Che è il problema Sapete Cioè regà Se avete visto Fa C'è un po' brutto Stem Furious i primi Mamma mia Tokyo Drift Lasciamo stare guardate Là era pieno di sta roba Quindi sinceramente Sì Pessimo gusto Ma allo stesso tempo Questa era la moda Andre di recente Mi sono dichiarato Ad una ragazza Che mi piace E mi ha rifiutato Ma a me piace ancora Sai dove si compra Il cloroformio Io stavo per iniziare Un discorso serio Tu tenesci così Va bene Gianluca Grazie per il 17 Valentino Eh Valentino No Non lo vendono più Perché è tossico Per il cervello In dosi prolungate Quindi Devi utilizzare altri tipi Però Non ti faranno Le specifiche Su come crearli Perché rischio alla galera Quindi Mi dispiace Mi dispiace Oddio sono tipo Volevo sdramatizzare Lo so Lo so Lo so che stai scherzando Eh Valentino Non ti preoccupare Te ne dimenticherai Ne trovi un'altra Ti dimentichi È così È un ciclo vitale Specialmente quando sei adolescente Vedi una tipa Ti piace Vuoi stare con me No Mi fai cagare Ok ciao Vai a quella dopo Bella anche questa Ciao Mi piaci Blah blah È un ciclo Valentino È un ciclo continuo Non ti preoccupare Tanto Sei 0-9 Hai 14 anni Ne hai di tempo Per pucciare il biscottino Non ti preoccupare Non c'è aver fretta Ne hai di tempo Per trombare Anche perché poi Ti fidanzi ai 14 anni Sei rovinato Io te lo dico Non ti fidanzare a 14 anni Goditi la libertà Goditi la vita Esci con gli amici Non ti fidanzare a 14 anni Che è troppo presto Fidati Goditi la adolescenza Buonasera Re Paperone Avevo in mente Una gran cazzata Da fare in solitaria Nelle settimane a venire Se non mesi a venire Cioè Fare 24 ore in Polonia Almeno come primo stato Che conosco Relativamente meglio Piano piano Sto mettendo in piedi Tutto dici che funzionerà Sì 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 Ah già mi serve La benedizione del Re Papera Ti benedico patatino Sì 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 Tranquillo Ma non è che a quanti Non c'è un numero ragazzi Però a 14 anni È precoce Che cazzo ti fidanzi Anche perché ragazzi Statisticamente parlando Tutte le persone Che si fidanzano Intorno a quell'età lì Poi si muolano dopo un po' Quindi No vabbè Ma se siete innamorati Fatelo ragazzi Sti cazzi Io sono dato un consiglio personale Cioè di non affrettare Il fidanzamento Però se volete farlo Fatelo Non è che vi dico Di non farlo Mi piacciono le bambine No mi piacciono i cadaveri Ho delle extension Per le sopracciglia Ma a forma di Hello Kitty Oppure se ne faterei Oddio non ho capito Che brutta Perché non mi interessa Nessuna persona Dopo che ho lasciato La mia ex ragazza Sei mesi fa Dopo tre anni Il che per me Attualmente risulta Difficile Interessarmi Ad una persona Non me ne frega un cazzo Della tua situazione sentimentale Dal momento che hai detto Mi sento vecchio Che vado per i 21 E non capisco Perché non mi interessa Nessuna persona Dopo che ho lasciato La mia ex ragazza Perché Stream Elements Si blocca Dopo tre anni Il che per me Attualmente risulta Difficile Interessarmi Ad una persona Dicevo Il Maggio Grazie per la sabbra Io sono single Da 24 anni E ho 24 anni Bella Dicevo La tua situazione sentimentale Non me ne frega un cazzo Dal momento che hai detto Che ti senti vecchio A 21 anni Stai calmo Stai calmissimo Non so se ci siamo capiti Ecco Perché voglio dire Cioè Se tu ti senti vecchio A 21 anni Io sono già mummificato Voglio dire Quindi Voglio dire Stiamo 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 Calmissimi Comunque Stronzate a parte Baratino Non ti preoccupare Non ti preoccupare Tanto il cervello Il cervello è strutturato Per dimenticare Non ti preoccupare Letteramente il cervello È programmato Per farti dimenticare Dei momenti brutti Che tu lo voglia o no Li dimenticherai Non ti preoccupare Dati tempo Molto Molto fatto bene No è la merda È la cosa che non si guarda Com'è visto da Di profilo Non di profilo Da davanti Ma poi scusate Non appesantisce Tipo le ciglia Quanti anni hai Quanti me ne dai Non ce la farei mai Nella vita Guardarla però È una tagliera Ma perché Sembra fatto in 3D Sinceramente La voglio La voglio subito È troppo strana Che cosa sarebbe Tipo un essere strano Sì è un essere strano E basta Non lo voglio sapere Lo voglio Voglio la taglier Però li devo uscire L'acqua dal naso Sennò Ok adesso domanda Per le ragazze Preferite le scarpe O le borse Entrambe Ah Prego Ok Va bene Non lo so C'è un calcio Di punta nei coglioni È più bello Di questa roba qui Cosa qua quando fa Scusa mi allaccio Le scarpe Tipo Se l'allaccia Ma è brutta Dio che cos'è Ma che cazzo è Il virus G Di Resident Evil Lo può pure muovere Ma è bellissimo Ah ma questo è tipo Il fiorellino di Naruto Quello con lo È bellissimo Sembra il virus G Di Resident Evil Ma che bello è È un angelo Cosa vuol dire È un angelo Non mi ricordo È bellissimo Sì è stato fatto decisamente Troppo bene Non mi piace per nulla Mamma mia Lo metterei come decorazione Sul tavolo È figo invece È bello È un angelo della Bibbia Proprio sul tavolo da pranzo Bibbically accurate flower Ah oi Ma che cazzo è sta roba ragazzi Scusate Cosa vuol dire Biblia Cosa vuol dire Ah la Bibbia dice che Scusate la Bibbia dice che Gli angeli sono dei Centrotavola con gli occhi Cazzo vuol dire Scusate Nella Bibbia sono descritti così La Bibbia descrive Gli angeli come dei Centrotavola di pelle Con gli occhi Grandi così Che cazzo dite Ragazzi Certo Certo Vado a vedere che Non è che cerco Ragazzi Sì Vado a cercare una cosa Che non esiste Va bene Adesso lo cerco Aspetta Angeli biblicamente corretti Ah questo schifo qua Tipo Ma che è sta roba Tipo Tipo questo schifo qua Ale Grazie per l'anno Palatino Che sembra tipo Un demone Sembra tipo Il demone Quello di Devil May Cry Sono quelli di Devil May Cry Praticamente Tipo Sono questi schifi qua Sì vabbè ma tanto ragazzi Scusate ma chi se ne frega Tanto non esistono Potete immaginare che sia come volete Che ve ne frega scusate Sì ma che ve ne frega ragazzi Non esiste Immaginatelo come volete Io invece dico che non sono così Ma di che droghe si facevano Quelli che hanno scritto la Bibbia? Eh perché Quelli che hanno scritto la Bibbia Hanno fatto la carta fusione Dell'angelo Con l'idolo dei mille occhi Volevano creare l'abbandono Dai mille occhi Ma hanno fatto l'angelo Dai mille occhi È una carta potente Yu-Gi-Oh 4.000 4.000 Ogni bestemmia Però perde 100 punti in attacco Grazie per il giro Ragazzi no Per me invece No invece per me L'angelo è fatto così Non mi interessa Tanto voglio dire Stiamo parlando di roba Che non esiste Quindi l'angelo per me è così E ho ragione io Perché sì Perché non puoi dimostrare Non puoi dimostrare Che l'angelo che dico io Non esiste Fregato Non puoi dimostrare Che l'angelo non esiste Quindi esiste Oddio perché Così vero raga Mettete Occhi dappertutto Diventa biblicamente accurato È per forza così Baby Batman Bellino Mamma mia raga No per favore Ci sono delle cose Che non dovrebbero mai Venire Perché invece è carino E sono abbastanza sicuro Che questa sia una di esse No invece spacca Io non sono d'accordo con Ratorix Invece spacca Ma perché è ciccione Perché l'hai Un bebero L'è ciccione È un bambino È un bebe Che cazzo vuoi Il bebe con gli addominali Col medaglione Che cavolo c'ha sul petto Non lo so C'è tutte le cose No bruttissime Ma c'è un bellino A me piace Questa cosa è Cos'è un oro drillo O un coccologio È un oro drillo O un coccologio Vedete È l'orologio È l'orologio Che è la sveglia Che si è mangiato Il coccodrillo Di Peter Pan Allora Allora Ragazzi Adesso farò Una battuta In inglese E me la dovete perdonare Però io ve lo dico Se dovesse mai arrivare Un inglese A chiedermi What time is it Io gli risponderei sempre It's Five Oak Rock It's Five Oak